in collaborazione con incassi facilmente con bitcoin e ricevi euro sul tuo conto esploriamo bitcoin ben trovati seconda puntata del primo format in italia che cerca di esplorare per l'appunto le caratteristiche di una tecnologia senza pregiudizi in sei puntate con i massimi esperti del settore nella puntata precedente la prima puntata si è parlato tanto di scarsità si è parlato di fiducia nelle istituzioni con due esperti giacomo zucco e gai brush a cui ridò il benvenuto perché sono sempre loro gli ospiti di questa seconda puntata quindi ben trovato a ben trovato a gai brush esperto di cyber security e co conduttore del bitcoin italia podcast e anche a giacomo zucco divulgatore e direttore di plan b network ben ritrovati buonasera la puntata precedente è stata più chiusa per l'appunto con il concetto di scarsità e con il concetto in particolare di scarsità digitale c'è una caratteristica che bitcoin prova a ricostruire nel mondo digitale ereditandola da uno dei paragoni che viene più fatto generalmente quello con loro probabilmente avete sentito parlare di oro digitale quindi come sempre aspettiamo e guardiamo con attenzione il servizio di marco costanza e poi approfondiamo oro digitale così l'herry fink sio di blackrock la più grande società di investimenti al mondo con oltre 10 mila miliardi in gestione ha definito bitcoin il paragone tra loro e bitcoin non è casuale entrambi possono essere facilmente considerati beni scarsi e beni di rifugio in momenti di incertezza economica ma quali sono le caratteristiche che condividono questi due asset e soprattutto può bitcoin replicare davvero il successo dell'oro analizziamo insieme i punti fondamentali scarsità l'oro è una risorsa rara e limitata nel nostro pianeta ma la quantità estraibile esatta è ancora incerta in uno scenario futuro sicuramente lontano ma non totalmente impossibile potremmo addirittura trovarne in quantità pressoché infinite nello spazio al contrario bitcoin ha una scarsità determinata matematicamente il suo limite massimo è fissato a 21 milioni di unità questa caratteristica lo rende l'unico asset veramente limitato non solo sulla terra ma potenzialmente dell'intero universo sicurezza la conservazione di grandi quantità di oro richiede misure di sicurezza notevoli costi elevati e infrastrutture specifiche bitcoin al contrario può essere custodito in modo sicuro utilizzando semplicemente una serie di 12 parole che proteggono le chiavi private di accesso questa facilità di custodia lo rende accessibile a chiunque ed ovunque nel mondo in qualsiasi momento verificabilità l'oro necessita di strumenti specifici per verificare la purezza e l'autenticità di esso come bilanci di precisione e test di caratura bitcoin grazie alla crittografia avanzata a un sistema di verificabilità automatica ogni transazione registrata e verificabile istantaneamente garantendo che non possa in alcun modo essere falsificato trasmissibilità spostare l'oro soprattutto in grandi quantità è costoso lento e comporta rischi significativi bitcoin può essere trasferito istantaneamente dall'altra parte del mondo con una semplice transazione digitale inoltre essendo infinitamente divisibile è adatto sia per micropagamenti che per transazioni miliardarie da questo scenario risulta chiaro come bitcoin non solo sia un asset con potenzialità simili a quelle dell'oro ma addirittura migliori rappresentando di fatto un adattamento al contesto digitale globale tuttavia la questione se possa realmente replicare il successo del metallo prezioso resta aperta bitcoin esiste da 15 anni e nonostante abbia dimostrato di essere estremamente resiliente l'oro ha sulle spalle 5000 anni di storia ecco perché molti investitori non lo considerano ancora un bene rifugio a tutti gli effetti addossandogli principalmente la funzione di asset speculativo e quindi oro e bitcoin due strumenti che hanno chiaramente caratteristiche diverse però hanno anche delle affinità che ci introducono al concetto di scarsità digitale per l'appunto sembra quasi strano parlare di scarsità digitale siamo abituati davanti a un computer a poter replicare all'infinito un file a poter salvare un file un video un test un email per migliaia centinaia di migliaia milioni di volte quindi sembra quasi assurdo parlare che parlare del fatto che nel mondo digitale si possa creare la scarsità eppure e mi rivolgo a guy brush in qualche modo c'è stata una scoperta della scarsità digitale sì una scoperta che a livello delle scoperte più importanti della storia dell'umanità cosa che non tutti gli esseri umani hanno la fortuna di essere testimoni paragonabile la scoperta del fuoco addirittura il problema proprio è che se vogliamo creare un sistema di pagamento non intermediato quindi senza bisogno di riporre fiducia in una terza parte abbiamo bisogno di creare ciò che sia una verità e di risolvere alcuni problemi matematici come il famoso problema della doppia spesa nel sistema finanziario classico il problema è risolto perché diciamo questo oracolo esterno la banca decide chi ha cosa quando trasferiamo del valore per esempio una moneta d'oro e la do a Giacomo sto trasferendo una moneta d'oro quindi il bilancio finale di questa transazione che io ho zero moneta e lui ce n'è una ma se io so una barzelletta molto divertente sulle banche centrali e racconto una barzelletta molto divertente su banche centrali a Giacomo il risultato finale che entrambi adesso sappiamo la barzelletta divertente sulle banche centrali quindi la caratteristica principale dell'informazione che non si può trasferire si replica cioè la mia barzelletta si è replicata nel suo cervello adesso la sa anche lui noi vogliamo fare in modo ovviamente un sistema monetario che tutte le volte che viene transato viene spostato replica la moneta non è efficiente non è per niente un sistema non va bene e quindi come facciamo a ereditare questa questa caratteristica dell'oro ma migliorandolo in tutte le sue caratteristiche quindi rendendolo più facile da trasmettere utilizzando quella che è la nostra rete di scambio di informazioni Satoshi Nakamoto scopre proprio questa possibilità che approfondiremo poi è sostanzialmente si tratta di legare l'informazione matematica ciò che l'informazione porta a una realtà fisica esterna sulla quale tutti siamo obbligati a convenire matematicamente non c'è possibilità di alterare la fisica la realtà fisica che supporta questa verità quindi tutti con tutti i componenti del network convogliano verso questa verità in maniera automatica e incentivata il paragone con l'oro non viene da 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 black rock come ci diceva marco nel nel servizio viene proprio da Satoshi Nakamoto nel white paper lui parla di un'analogia diretta con il processo di estrazione dell'oro con il processo che viene poi chiamato appunto mining nel bitcoin certo ci riferiamo naturalmente al mining bitcoin ne parleremo tra poco però in realtà in questa soluzione per trovare la scarsità digitale operano tante diverse caratteristiche di bitcoin tante diverse tecnologie che lavorano insieme si parla del mining ma si parla anche in termine molto inflazionato che è quello della blockchain giacomo zucco in particolare la blockchain di bitcoin che cos'è come funziona molto ironico che sia inflazionato un sistema per prevenire l'inflazione dunque abbiamo detto che ci serve scarsità digitale il mondo digitale come tu sottolineava il mondo in cui tutto non solo riproducibile come l'informazione come le barzellette ma addirittura riproducibile in maniera perfetta mentre una coppia a mano della gioconda avrà comunque qualche differenza da originale un jpeg della gioconda avrà esattamente gli stessi bit uno a uno qui il digitale mondo della coppia perfetta come diceva guy brush ciò che trasmettiamo non è l'informazione ma è sostanzialmente la prova di un sacrificio nel mondo fisico la prova digitale di un sacrificio fisico è la cosiddetta prova di lavoro la prova di lavoro è la prova crittografica che abbiamo consumato dell'energia ha una certa di risolvendo un problema che ha una certa difficoltà e questa prova è infinitamente replicabile ma l'energia sacrificata non può essere risacrificata senza farlo nel mondo fisico quindi la prova di lavoro fa da ponte tra il mondo fisico dove esiste la scarsità e il mondo digitale dove invece tutto è infinitamente riproducibile si stai riferendo alla proof of work naturalmente di cui parleremo più nel dettaglio tra l'altro ma tu mi hai chiesto della blockchain esatto come si configura questa proof of work come interagisce con la blockchain la prova di lavoro viene usata in due modi in bitcoin un modo è creare la scarsità dell'asset quindi creare questo oro digitale tramite cioè tramite l'estrazione e qui usiamo la prova di lavoro per dimostrare che l'asset esiste l'asset è la prova di lavoro frazionabile trasferibile la seconda modalità è del riusare la prova di lavoro non solo per creare l'asset ma anche per creare una storia di trasferimento unica nel mondo che è la famosa blockchain o time chain come la chiamava satoshi rakamoto cioè la catena del tempo cioè quando io trasferisco e la mia prova di lavoro frazionabile mio pezzettino di prova di lavoro digitale la trasferisco a guy brush aspetto che un minatore di bitcoin estraggo una nuova prova di lavoro e includa la un riferimento digitale dimostrabile al mio trasferimento dentro la nuova prova di lavoro ora siccome la nuova di prova di lavoro è ancora una cosa unica nel mondo fisico non può essere rifatta mille volte non ci può essere doppia spesa praticamente bitcoin per due volte traghetta la scarsità del mondo fisico nel mondo digitale una volta per la scarsità e la seconda volta per la non rispendibilità dell'asset che trasferisco e questa è la famosa block chain termine che come dicevi è stato abusato per indicare la qualunque diciamo che il termine block chain è diventato una sorta di soluzione senza problema a cui nel mondo degli affari della finanza e della tecnologia sono state appiccicate ogni cosa abbiamo visto la block chain per il pollo nei supermercati la block chain per togliere l'inquinamento dai mari per di tutto ma in realtà nel mondo di bitcoin è una cosa semplice è una catena di blocchi ogni blocco corrisponde alla prova di lavoro che immette nuovo oro digitale nel sistema e che collassa la possibile storia di trasferimento a una sola versione senza poter vivere in versione alternativa racchiude le transazioni che sono avvenute in quella finestra temporale in un template banalmente di codice che viene chiamato blocco questo blocco racchiude una serie di transazioni ma soprattutto la cosa importante la parte chain più ancora che la parte block il blocco che racchiude transazioni viene depositato sopra un altro blocco a cui viene concatenato e ogni volta che ne aggiungo uno diventa sempre più costoso andare a modificare il passato per modificare il passato tre blocchi fa io dovrei rifare tre volte la prova di lavoro che è stata fatta da altri quindi a modificare passato nella block chain di bitcoin diventa costoso e il suo costo cresce esponenzialmente con la profondità quindi quando la mia transazione verso guybrush viene ricoperta da un blocco e poi da un altro e poi da un altro la dif il costo di riscrivere la storia cresce esponenzialmente questo non avviene nelle block chain gestite per esempio da banche quando si dice c'è la block chain della banca lì non c'è nessuna prova di lavoro quindi il costo di riscrivere la storia è semplicemente che si mettano d'accordo i treccano la firma e riscrivono la storia per questa caratteristica della prova di lavoro che poi si parla anche di immutabilità più passa il tempo più diventa virtualmente impossibile andare a modificare praticamente impossibile perché il costo cresce esponenzialmente certo parleremo di una seconda caratteristica chiave che interagisce con questo sistema che è quello del mining subito dopo la pubblicità e quindi ci tocca parlare del mining un mining che è tanto travisato dall'informazione generalista si parla di calcoli astrusi si parla persino di inquinamento peraltro non perdetevi la prossima puntata di giovedì 14 novembre dove parleremo delle conseguenze del mining cioè come come viene effettuato il consumo energetico che è tipico del mining di bitcoin e quali sono le implicazioni positive o negative che siano di questo di questo consumo energetico però in questa sede ci concentriamo in particolare su che cos'è il mining quindi cercando di spiegare come funziona parto parto con guy brush si legge spesso sui giornali che il mining è caratterizzato da difficilissimi algoritmi e calcoli molto complicatissimi davvero così allora non proprio diciamo che questo è un modo molto ingenuo di riferirsi ci sono due modi in cui mass media si sono riferiti a questa attività che oggi è a tutti gli effetti un'attività industriale ma ai tempi nel 2009 quando la tecnologia è stata lanciata era semplicemente dei computer dei personal computer che computavano un determinato numero adesso entriamo nel merito e questa è la maniera ingenua la maniera faziosa di descrivere il mining è il mining di uccide il pianeta fa bollire gli oceani ma anche qua vedremo come bitcoin avrà un impatto sul rapporto che gli esseri umani hanno col modo di produrre trasportare immagazzinare energia come funziona il mining sostanzialmente oggigiorno ci sono dei grandissimi capannoni pieni di computer con delle ventole di raffreddamento dei computer tra l'altro molto elementare quindi anche in termini di rifiuti elettronici non sono sono molto ad un livello inferiore rispetto ai nostri semplici smartphone su dei componenti basilari che fanno una sola cosa sono macchine stupide macchine abbastanza stupide perché fanno una cosa non risolvono un complicatissimo problema matematico ma cercano un numero lanciano un numero casuale cercano un numero casuale che risolve diciamo un una computazione che vale in quel momento storico del tempo per tutti i nodi del network bitcoin per figurarsi il processo del mining è bene usare piuttosto l'analogia del lancio di dadi quindi per richiamare proprio il processo casuale immaginiamo di avere 20 dadi a testa in questo studio siamo in tre e quindi possiamo lanciando questi 20 dadi ottenere il risultato massimo se escono tutti sei 120 o risultato minimo se escono tutti uno quindi 20 quindi abbiamo 100 valori possibili del nostro lancio di dadi e poi decidiamo tra di noi che il primo che lanciando i dadi fa un valore sotto a 40 ha diritto di scrivere un'informazione un foglietto con scritto per esempio le transazioni di un sistema monetario ma non è detto anche qualsiasi altra spiegato il mining qualsiasi altra informazione noi lanciamo ci mettiamo lanciamo i dadi continuamente a un certo punto uno di noi farà ne so 37 e vai lì e scrivi il il numerello e il tuo foglietto con un'informazione ricominciamo a lanciare i dadi ma a un certo punto arrivano altre tre persone e dicono anche io voglio lanciare i dadi in questo caso la probabilità che esca un numero sotto 40 aumenta perché siamo in più a lanciare i dadi il sistema risponde diminuendo abbassando la soglia all'inizio quando eravamo solo in tre volevamo ottenere un valore sotto al 40 adesso decidiamo che deve essere sotto il 30 in questo modo il network si bilancia e l'attività esterna industriale è indipendente può svilupparsi nel modo in cui meglio crede e i miner a tutti gli effetti sono dei fornitori di un servizio che possono sviluppare la loro industria in maniera totalmente indipendente quello che appena spiegato quello il fatto che il sistema si riequilibri decidendo che il numero da cercare non è più 40 non è più sotto al 40 ma deve essere sotto al 30 rende più difficile il sistema di riequilibrio del mining di bitcoin che viene chiamato in gergo difficolti aggiusti da aggiustamento della difficoltà e che garantisce che cosa che non ci sia un'emissione eccessiva rispetto a quella programmata perché si vuole che il sistema di emissione bitcoin rimanga equilibrato si vuole che rimanga diciamo equilibrato nel tempo medio di 10 minuti ogni informazione viene aggiunta mediamente ogni 10 minuti poi è ovvio che ogni blocco viene aggiunto ogni 10 minuti quindi nuovi bitcoin vengono immessi nel mercato ogni 10 minuti ma se questi blocchi venissero approvati più velocemente verrebbero emessi più bitcoin e quindi si inflazionerebbe il mercato mentre invece questo meccanismo che raccontavi tu in difficoltà già praticamente si rende più difficile la ricerca di questo numero casuale proporzionalmente a quante persone sono attive nell'attività del mining quindi sostanzialmente assomiglia molto di più a un processo casuale a un lancio di dadi piuttosto che a un'attività complessa matematica come spesso viene descritta. di fatto è un gioco probabilistico si un gioco probabilistico Giacomo Zucco il mining spesso viene anche etichettato come quasi un intermediario del sistema bitcoin perché spesso si dice che i miner approvano le transazioni quasi come se fossero la banca del bitcoin al quale è necessario sottoporre la transazione per farla provare e poi come dire farla girare per l'intero network per l'intera rete quindi andare a buon fine alla transazione. È davvero così? No, non è così. C'è un chiarimento tecnico da fare poi un'obiezione più fondamentale chiarimento tecnico che spesso si dice che i miner confermano le transazioni in realtà un singolo utente di bitcoin può confermare che la transazione sia corretta verificando la prova di lavoro che ne sta alla base e le firme digitali che la trasmettono senza l'intervento dei miner, senza guardare la blockchain la transazione è vera o falsa a seconda che ci sia una vera firma digitale e che la prova di lavoro alla sua origine sia vera quello che in realtà non può fare l'utente bitcoin senza i miner è confermare che non ci sia una doppia transazione cioè che la transazione fatta da Guybrush verso di me non sia vera ma sdoppiata da un'altra verso di te in questo senso mi serve che ci sia una storia unica e quindi devo guardare la catena dei blocchi e l'attività del mining per garantirmi la storia unica in realtà non è un intermediario in senso stretto anche per il fatto che è un sistema aperto cioè come diceva prima Guybrush chiunque può entrare con il suo set di 20 dadi non c'è una banca centrale, non c'è una regola che decide che lui ha diritto di minare e quell'altro no tutti possono fare mining e qualora un gruppo di minatori di bitcoin decidano per esempio di non includere certe transazioni oppure di rifiutarsi di lavorare e spegnere le macchine un altro gruppo in qualsiasi parte del pianeta senza nessun permesso, senza nessuna licenza accende dei computer e fa il suo calcolo qualora il calcolo sia molto difficile non riusciranno a trovare la soluzione quindi la difficoltà si aggiusterà automaticamente come diceva Guybrush fino a scendere alla portata di tutti come dicevamo all'inizio chiunque nel 2009 poteva aprire un portatile e fare mining con il suo processore generalistico invece dopo un po' è la difficoltà a causa della concorrenza è diventata così alta che si è dovuti passare a schede video professionali e poi addirittura a chip creati esclusivamente per fare mining di bitcoin sono queste chip che vengono stampate per fare solo quello e non possono fare nient'altro ad oggi quindi il mining è un'attività industriale estremamente professionalizzata e non si può farlo da casa nella maggior parte dei casi è antieconomico comunque, si perdono soldi se qualcuno vi propone di fare soldi col mining sia a livello fai da te che a livello soprattutto cloud mining di dare i vostri soldi a qualcuno per fare mining per voi stare lontano è una truffa il mining casalingo lo possono fare degli appassionati per altri motivi che spesso magari creare calore riciclare un po' di calore magari avere dei bitcoin privati perché comprarli richiede dei rischi di privacy quindi ci sono dei motivi per fare mining a casa vostra ma non è guadagnare soldi se questa è la premessa è una truffa quasi sempre e poi ci sono molte interferenze tra questo processo che abbiamo descritto e la difficoltà che si aggiusta e il concetto per esempio di scarsità per esempio dicevamo dell'oro che l'oro è scarso anche lui però è scarso in maniera comunque un certo senso elastica cioè se l'oro aumenta di prezzo i minatori di oro possono estrarre più oro certo non altrettanto per compensare quindi rimane una scarsità un'inelasticità di fondo ma possono comunque aumentare la produzione d'oro un minimo di offerta si può aumentare sale la miniera faccio lavorare i minatori di più invece in bitcoin la scarsità è assoluta perché se aumenta il prezzo di bitcoin aumenta la quantità di produttori che vogliono chiaramente produrre questo bene che ora vale di più ma il fatto che aumentino i minatori aumenta la difficoltà che fa calare la produzione quindi in realtà rimane perfettamente bilanciato indipendentemente dalla domanda l'offerta di bitcoin è completamente inelastica non cambia in alcun modo qui non solo abbiamo portato la scarsità nel mondo digitale dove sembra paradossale ma l'abbiamo addirittura aumentata l'oro è relativamente scarso bitcoin è assolutamente scarso potrebbe esistere bitcoin senza mining cioè ci sono tante critiche legate proprio al consumo energetico si parla di sistemi alternative tante altre criptovalute o sedicenti tali sono passate a proof of stake che non include la prova di lavoro quindi non include il consumo energetico il lavoro fisico a cui tu facevi riferimento prima per poter fornire una prova temporale nel mondo digitale potrebbe esistere una soluzione di questo tipo in bitcoin? no e quando viene venduta c'è sempre un trucco da qualche parte ci sono dei sistemi proof of stake ma c'è sempre un trucco di centralizzazione prima di tutto perché per avere un asset scarso deve esserci appunto un sacrificio nel mondo fisico altrimenti nel mondo digitale tutto è riproducibile infatti queste valute proof of stake quasi sempre sono state stampate da un ente centrale la famosa scarsità artificiale che ha detto io li stampo per me e adesso ve li vendo a quel punto la proposizione di fondo la scarsità ritorna artificiale l'idea di fondo di disintermediare l'economia non c'è più stiamo rifacendo in un'altra salsa quello che già avevamo una banca centrale se vogliamo almeno in concorrenza il vantaggio di queste valute rispetto alla BCE è che almeno sono in concorrenza tra loro quindi stiamo riproponendo un sistema finanziario tradizionale con le criptovalute in salsa digitale sì assolutamente escludendo il bitcoin purtroppo a oggi la scoperta di Satocinacomota è proprio questa non si può andare cercare una soluzione più efficiente come spesso ti dicono la proof of stake è inefficiente il mio sistema è più efficiente è l'unico modo di creare un meccanismo di consenso che non ha una terza parte che ha un fondamento nella realtà che tra l'altro è nel modo nel rapporto in cui gli esseri umani hanno con l'energia che è fondamentale questo sblocca effetti di secondo e terzo ordine poi che sono stati forse metabolizzati per quanto riguarda la narrazione di bitcoin successivamente rispetto agli inizi anche se in tempi non sospetti i primi lo stesso Satoshi o al fine uno dei primi forse il primo utilizzatore di bitcoin parlavano già e pensavano già al modo in cui il mining avrebbe potuto influire sul mercato energetico quindi molto lungimiranti ottimo quindi non comandano i miner non comandano le banche centrali in bitcoin non comandano aziende o fondazioni che ci stanno dietro chi comanda in bitcoin? rispondiamo a questa domanda dopo la pubblicità dunque chi tira le fila di bitcoin chi è a capo della più nota criptovaluta introdotta lo Satoshi Nakamoto il 3 gennaio del 2009 non c'è una singola persona spoiler non c'è una singola azienda non c'è una singola entità dietro ci sono i cosiddetti nodi probabilmente si potrebbe dire i nodi che fanno parte di una rete peer-to-peer non stiamo parlando di fare maglia non stiamo parlando di un noto hobby casalingo stiamo parlando di tecnologie naturalmente di infrastrutture informatiche partiamo però dalle basi chiedendo a Guybrush il nostro esperto di cyber security che cos'è una rete peer-to-peer allora una rete peer-to-peer il termine peer-to-peer comincia a emergere dagli scantinati con questi sviluppatori nerd che propongono le loro implementazioni nella prima decada degli anni 2000 quando tutti non tutti ma magari in tanti si ricorderanno del fenomeno Napster uno dei primi forse il primo esempio su grande scala di file sharing quindi di condivisione di file è emerso perché questa tecnologia andava a toccare un pochettino un'industria che non ha reagito nel migliore dei modi possibili l'industria musicale e discografica quindi si rendeva possibile per ognuno di noi accendere il proprio computer e scambiare file musicali con qualsiasi altra persona connessa alla stessa rete che non era ai tempi perfettamente peer-to-peer ma adesso lo vedremo questa cosa ha creato un po' un impulso negativo per l'industria quindi abbiamo avuto tanti casi in quella decada lì dal 2001 al 2008 abbiamo avuto circa 30.000 casi di quella che è la CIA americana contro proprio gli utenti i singoli utenti che accendevano loro faceva causa agli utenti sì, faceva causa agli utenti in maniera diretta la tecnologia peer-to-peer in realtà si è dimostrata talmente resistente talmente resiliente a questo genere di attacchi burocratici perché tecnicamente le case discografica non potevano fare niente avrebbero dovuto spegnere tutti i computer connessi a questa rete quindi la prima caratteristica che è emersa di una rete peer-to-peer è proprio l'estrema resistenza il fatto che la rete stessa è più forte della somma delle singole parti quindi anche eliminando una parte andando casa per casa spegnendo il computer di tutti la rete sopravvive lo stesso quindi nel caso dell'industria discografica la reazione è stata non possiamo batterli cerchiamo un'alternativa migliore sul mercato buttiamo quindi da lì sono nati i servizi di streaming cosa che non ha spento o eliminato la tecnologia peer-to-peer ha reso semplicemente più comodo per l'utente un'altra soluzione ma in realtà tutto il network peer-to-peer tutto il flash sharing è ancora lì è ancora funzionante perfettamente bitcoin arriva alla fine di questo processo nel 2008 Satoshi Nakamoto appunto pubblica questo documento in cui usa proprio il termine peer-to-peer per descrivere un'infrastruttura di nodi ma il suo non è un peer-to-peer teorico è un peer-to-peer topologico proprio quello che propone lui è che ognuno di noi con il proprio computer a casa si installi il codice di cui lui aveva fatto la prima proposta e lo faccia andare e si connetta a una rete chi decide che cos'è bitcoin non sono come dicevi tu i miner gli sviluppatori le aziende chi ci investe sono l'utente che fa andare il nodo chi decide chi cos'è bitcoin quanti ce ne sono ogni quanto vengono messi che cos'è un blocco che cos'è bitcoin che cos'è un miner lo decide il nodo lo decide il codice che è scritto sul computer di uno di questi nodi di uno di questi utenti esattamente la rete peer-to-peer ha degli enormi vantaggi quindi per la prima volta si contrappongono due modelli topologici differenti quello centralizzato quindi del server centrale a cui noi tutti ci colleghiamo che possiamo diciamo paragonarlo a quello che usiamo oggi con i grandi servizi Amazon Apple Google tutti ci colleghiamo allo stesso server anche i social network inviamo i nostri dati e il server centrale si occupa di ridistribuirli agli utenti ma in questo modo concentriamo tanto potere su un'entità sola che ha la possibilità di censurare i nostri dati cancellare i nostri dati rivendersi i nostri dati fareci quello che vuole in una rete peer-to-peer invece non c'è un singolo una rete peer-to-peer ideale non c'è un singolo punto di point of failure come si dice un singolo punto di fallimento ma ogni nodo conserva in bitcoin soprattutto conserva una copia esatta di tutto quello che è avvenuto quindi eliminando andando a tutte le transazioni che sono state fatte dalla nascita tutto quello che è successo dalla nascita è in grado di secondo alcuni protocolli comunicare a tutti i vicini tutto quello che è successo e quello che è già successo quindi ognuno può unirsi in ogni momento a questa rete peer-to-peer e non è non è censurabile perché come dicevo prima come le case discografiche e i metalli che si sono resi conto nel 2001 non possiamo andare casa per casa a spegnere i computer di ognuno non è praticamente fattibile e quindi non c'è modo di fermare una tecnologia che si basa infrastrutturalmente su una rete peer-to-peer quindi propone un modello per esempio appunto tu parlavi del modello decentralizzato l'infrastruttura peer-to-peer propone questo modello decentralizzato che è esattamente l'opposto del modello finanziario al quale siamo abituati oggi che è un modello centralizzato gestito unicamente dalla banca centrale che se vogliamo proseguire con questa analogia è l'unico grande nodo che gestisce le regole della moneta che emette mentre in bitcoin a gestire le regole di bitcoin sono tutti gli utenti che hanno installato il software sul proprio computer e decidono di scrivere e compilare questo software secondo le loro se un giorno noi volessimo cambiare una di queste regole diciamo non voglio più che ci siano 21 milioni di bitcoin voglio che continuiamo a emetterne perché secondo me è una ragione astrusa io posso farlo cambio il codice sul mio computer e basta chi è che mi segue bisogna vedere si riesco a convincere tutti ma parallelamente ci sarà ancora qualcuno che vorrà tenere il nodo che diceva che bitcoin è fatto da solo 21 milioni e il mercato come raggirà a chi darà valore a chi conserva l'assoluta scarsità digitale di cui parlavamo prima o darà valore a me che ho inventato una nuova ci sono i numerosi casi è già accaduto più volte che qualcuno ha deciso di proporre una versione diversa del codice di bitcoin ha provato a creare la sua fantastica alternativa migliore a bitcoin ed è fallito miseramente come meritava questo sembra in contraddizione peraltro con ciò che abbiamo andato inizio sull'unica storia transattiva che impedisce la doppia spesa o sulla scarsità perché ognuno potrebbe crearsi infinite coppie diverse di bitcoin ma la differenza è che da un lato chiunque può cambiare le regole per sé ma poi il tema è dove il mercato nella sua totalità andrà ed è realistico aspettarsi sempre che il mercato sia davanti le versioni individuali di bitcoin che possono divergere all'infinito possono essere cene infinite e invece la versione unica quella tradizionale non modificata è chiaro che la seconda manterrà la scarsità assoluta mentre le prime potranno svilupparsi in quantità indefinita quindi le prime finiranno per non avere valore infatti hanno sempre finito per non avere valore quindi abbiamo da una parte la libertà totale dell'individuo di cambiare le regole come vuole e dall'altra una spinta economica a convergere tutti sullo stesso valore che è un po' come nel linguaggio il linguaggio io posso inventarmelo come voglio posso decidere che cambia regole grammaticali l'accademia della crusca non è armata quindi non può venire a impedirmelo e metallica non mi possono fare causa se cambio il linguaggio ma non lo faccio perché il linguaggio serve per parlare con altri e quindi avere il mio linguaggio privato deciso solo da me non mi porta alla funzione del linguaggio quindi bitcoin può essere dal lato cambiato da ognuno e dall'altro è anche una sorta di verità unica oggettiva a cui tutti dobbiamo non per violenza ma per convenienza uniformarci altrimenti parliamo da soli commerciamo da soli e la cosa non ha nessun senso ha evocato peraltro un'analogia molto frequente nel mondo anche dell'informatica code easy speech spesso il codice informatico viene paragonato al linguaggio e la libertà di poter scrivere codice viene paragonata alla libertà di espressione vera e propria però abbiamo parlato finora in modo un po' astratto i nodi il codice installato sui computer e gli utenti che installano questi nodi che hanno la capacità di decidere le regole del software che gira sul loro computer ma Giacomo è così difficile oggi installare un nodo bitcoin sul proprio computer è un po' diverso rispetto a farlo nel 2011 è addirittura più facile da un certo punto di vista abbiamo due fenomeni da un lato la rete se vogliamo un po' meno puramente peer to peer dell'origine nel senso che ci sono ruoli più specializzati nel 2009 una persona installava bitcoin e faceva tutto dal mining fino alla verifica delle proprie transazioni e tutto quanto invece adesso abbiamo dal lato i miner come dicevamo sono diventati degli specialisti industriali quindi è un mercato aperto non monopolistico e quindi non controllabile ma comunque l'utente da sola casa non fa più mining poi sono arrivati i portafogli per bitcoin sul cellulare che non possono più detenere tutta la storia non puoi scaricare sul cellulare per due giorni tutta la storia transattiva dei blocchi quindi abbiamo soltanto le chiavi private che firmano le transazioni quindi ci sono soltanto delle password segrete che servono a mandare i nostri bitcoin ma deleghiamo la verifica di dove sono i bitcoin dove sono stati trasmessi e dei server esterni che però non sono di nuovo il server centrale della BCE ma sono chiunque si metta a disposizione a fare per esempio nel wallet Electrum ma ci sono tanti esempi possiamo andare in giro a chiedere a diverse persone se la storia è corretta quindi possiamo spalmare questa fiducia e ulteriormente tra l'altro adesso abbiamo Marco a inizio trasmissione Costanza diceva bitcoin può essere mandato istantaneamente in realtà bitcoin trasferito tramite la blockchain non è istantaneo perché richiede che un blocco arrivi ogni 10 minuti in media richiede tanti blocchi per confermare statisticamente quello che è istantaneo sono delle sottoretti dove degli utenti tra di loro si mettono d'accordo nel passare più velocemente bitcoin un esempio viene chiamato Lightning Network quindi quando di fatto non andiamo oggi in Salvador o a Lugano a pagare un caffè non scriviamo sulla blockchain quindi la rete è diventata da un lato molto più complessa meno peer to peer è ancora aperta contendibile ma è meno peer to peer ci sono ruoli più definiti dall'altra però la tecnologia è diventata più facile se pagare con bitcoin nel 2009 significava letteralmente prendere un computer portatile e mostrare un QR code o mandare un IP un indirizzo IP che non era sicuro oggi ci sono delle applicazioni su cellulare che vengono scaricate da un app store e permettono un'esperienza quasi paragonabile a un Paypal Revolut Satisfay quasi paragonabile dico quasi perché per essere onesti c'è sempre un trade off un costo comunque nulla è gratis non esistono pasti gratis se da un lato i sistemi decentralizzati sono efficienti sul lungo periodo perché non vengono fermati dalle cause legali dagli stati dai monopoli dall'altra richiedono un sacrificio di efficienza nel breve periodo un sistema centralizzato nel breve è sempre più efficiente perché tu hai l'albitro unico che si prende in carico tutti i costi e ti libera da tutto è la delega dell'esperto nel breve è più efficiente nel lungo però fallisce quindi diventa meno efficiente quindi ancora siamo alla puntata precedente della preferenza temporale la decentralizzazione costa nel breve ma diventa resiliente nel lungo mentre la centralizzazione sembra sempre perfetta fino a che fallisce e smette di funzionare hai parlato di compromessi involontariamente hai introdotto il tema dell'ultimo blocco di questa puntata perché si parlerà anche delle differenze che ci sono tra bitcoin e il grande immenso mondo delle criptovalute spesso molte criptovalute dicono di avere come dire transazioni più veloci o caratteristiche migliori ma tutte queste scelte introducono dei compromessi che cosa significa e quali sono questi compromessi lo scopriamo dopo la pubblicità per quale motivo abbiamo deciso di fare una serie di sei puntate su bitcoin e non sul mondo cripto sul mondo delle criptovalute ci sono dei motivi molto precisi questi motivi sono legati al tema dei compromessi con il quale abbiamo chiuso la parte precedente con il quale apriamo quest'ultima parte Giacomo Zucco ci sono di nuovo tanti annunci di uffici marketing aziende che creano criptovalute che sostengono che la loro criptovaluta ha transazioni più veloci è possibile approvare più transazioni farle più velocemente farne molte di più insomma sistemi più efficienti rispetto a bitcoin che sono nati dopo bitcoin in realtà però c'è un motivo se bitcoin ha determinate caratteristiche specie se sembrano gratuite uno guarda bitcoin e dice perché Satoshi Nakamoto ha fatto un aggiustamento di difficoltà che produce un blocco ogni circa 10 minuti sarebbe molto più comodo avere queste conferme ogni minuto ogni mezzo minuto ogni secondo e sembra quasi arbitrario infatti sono arrivate nuove coin copie di bitcoin che hanno detto beh io lo faccio in 5 e allora io lo faccio in 3 e chi offre di più in realtà quasi tutte queste scelte tecniche hanno un motivo molto preciso per esempio se io trovo un blocco e il tempo per il blocco successivo è un minuto molti minatori si troveranno a trovare la stessa altezza della blockchain in maniera casuale cioè il tempo che ci mette il mio blocco a diffondersi nella rete un altro minatore dopo un minuto avrà già trovato un altro blocco questo biforca o triforca la blockchain in tante varianti ma una sola può sopravvivere e quelle che muoiono chiaramente hanno comportato un costo energetico molto alto senza una ricompensa perché la ricompensa sta solo nel blocco che viene effettivamente definito come ufficiale nella linea unica questo può sembrare complicato ma si traduce semplicemente in centralizzazione i grossi minatori con un sacco di macchine ben connessi guadagnano di più e i piccoli minatori che vogliono fare concorrenza perdono e non possono competere quindi si traduce in centralizzazione un altro esempio anche fissando i 10 minuti come scelta di buonsenso da parte di Satoshi 50 minuti avrebbe reso l'esperienza della conferma troppo onerosa mentre un minuto avrebbe creato centralizzazione l'altro numero magico che Satoshi sembra aver scelto a caso è quante transazioni ci stanno in un blocco di bitcoin ogni 10 minuti quante transazioni posso fare sulla blockchain il numero attuale è qualche migliaio 5.000 meno di 10.000 questo numero reale in realtà non potrebbe dire facciamo dei blocchi molto più grandi dove ce ne stanno un milione perché soltanto 10.000 è perché un blocco più grande ci mette più tempo a propagarsi sulla rete e questo crea di nuovo lo stesso problema di prima una centralizzazione in cui alcuni minatori possono giocare dei trucchi sporchi per diventare sempre più potenti cioè più grandi diventano sempre più grandi e i più piccoli rimangono sempre più piccoli quindi ogni scelta dicevamo prima la prova di lavoro è inefficiente facciamo una cosa efficiente beh ma se la rendi efficiente manca il sacrificio di risorse fisiche che dimostra l'unicità e la scarsità quindi quasi tutte queste scelte alcune scelte possono essere perfettibili Satoshi non era perfetto e Bitcoin non è nato perfetto è stato migliorato ritoccato dagli utenti che come dicevamo prima possono scegliere di cambiare ma solo se tutti gli altri cambiano insieme a loro quindi alcune migliorie sono state fatte e si possono forse ancora fare ma molte delle migliorie più ovvie tra cui sono tra cui i 10 minuti il numero di transazioni ai blocchi la dimensione dei blocchi tutte queste migliorie più ovvie non si possono importare perché avrebbero dei costi e infatti quasi sempre questi cloni di Bitcoin che si vendono come più veloci vanno a nascondere sotto o più veloci o più stabili o più potenti nascondono sotto il materasso una centralizzazione quindi qualcuno che fa un trucco per cui sembra più veloce più efficiente perché stiamo delegando il tutto a una parte centrale certo quindi soluzioni e decisioni che portano a un miglioramento dell'efficienza nel breve termine ma con il compromesso della centralizzazione allora qui la domanda da porsi è probabilmente della domanda che pongo anche a Guybrush qual è l'obiettivo ultimo del concetto di criptovaluta del concetto di Bitcoin e di criptografia applicata al mondo del denaro digitale è quello di velocizzare le transazioni di renderle più efficienti di renderle più user friendly se così vogliamo dire o è forse quello di disintermediare il denaro e di conseguenza dare come dire significativa priorità alla decentralizzazione allora Bitcoin è una nuova forma alla fine di tutti i discorsi che facciamo è una nuova forma di denaro non è politico non è di destra né di sinistra alto o basso è una nuova forma di denaro le cui due value proposition sono principalmente due una è quella che abbiamo già affrontato affronta il tema della scarsità la possibilità di creare di utilizzare una forma di denaro che non sia inflazionabile sulla quale non si può intervenire arbitrariamente e la seconda è il tema della censura e della privacy che possono sembrare per noi un tema lontano perché la classica reazione quando si dice a un utente proteggi la tua privacy è ma io non ho niente da nascondere che equivale un po' a dire proteggi il diritto di parola perché non proteggo il diritto di parola perché non ho niente da dire in realtà il tema lo diceva Edward Snowden il whistleblower dell'NSA il tema dell'incensurabilità non va a toccare una questione maliziosa non è che io voglio avere una forma di denaro con queste caratteristiche perché voglio compiere crimini so già per certo che il denaro viene usato per atti criminali sia che sia bitcoin sia che sia l'euro sia che sia il dollaro questa cosa non cambia con la censura il controllo è già così anzi una valuta centralizzata è già in questo momento mentre parliamo utilizzata come forma di repressione in diversi paesi come forma di colonialismo versione 2.0 verso i paesi più poveri quindi il denaro è già uno strumento di cui si abusa e che è già utilizzato con malizia un'arma di fatto un'arma noi vogliamo proporre un sistema Satoshi Nakamoto io dico noi sul plurale maiestatis Satoshi Nakamoto propone un sistema che va ad agire su una delle due caratteristiche che ho appena detto cioè l'incensurabilità per fare in modo di darci la possibilità di avere uno strumento che riacquisisca le proprietà del denaro in questo caso la rete peer-to-peer di per sé come è progettata implementa l'incensurabilità e abbiamo già diversi esempi come quelli che dicevo prima del peer-to-peer del file sharing dell'industria che non ha potuto controllare questa tecnologia ma ha dovuto mutare ha dovuto cambiare nello stesso senso la proposta economica la proposta di value proposition che fa Bitcoin non va a uccidere i servizi bancari per esempio le banche commerciali potrebbero benissimo non mettersi ortogonali a questa tecnologia e potrebbero dire fornisco servizi posso fornire servizi che si basano sicuramente la banca centrale fa fatica qualche dubbio potrebbe averlo a rivisitarsi quindi la banca centrale potrebbe non essere più utile ma la banca commerciale no esattamente come l'industria discografica si è ripensata e ha proposto un nuovo prodotto che è diventato alla fine più efficiente l'industria bancaria potrebbe fare la stessa cosa utilizzando finalmente uno strumento lo strumento di denaro in maniera dignitosa in una maniera che non può essere usata come forma di repressione e di controllo nei confronti dei singoli e quindi insomma questo compromesso è fondamentale per il futuro di un progetto come quello di bitcoin ma quindi Giacomo Zucco tutto il resto tutte le altre criptovalute le famose altcoin non c'è nulla lì di dietro non c'è un futuro la mia risposta può sorprendere è no non c'è nulla e non c'è un futuro ovviamente ci può essere speculazione se una persona prende un clone di bitcoin che vale poco e lo rivende che vale molto ha fatto i soldi così come se una persona mette soldi sulla roulette sul rosso ed esce il rosso ha fatto i soldi da un casino se entrano 100 persone e tutte quante scommettono sul rosso e nero dividendosi in parti uguali dopo un po' dopo un giro escono 50 che hanno vinto dopo un altro giro 25 che hanno vinto e dopo un po' di giro esce uno che è milionario e vi dirà ho trovato la chiave della ricchezza in realtà è pura statistica ma al netto tutti hanno perso e solo il casino ha guadagnato il mondo delle criptovalute è la stessa cosa la scarsità digitale non può essere riscoperta perché è il concetto di non duplicabilità qui duplicare la scarsità digitale vuol dire dimenticare il concetto che abbiamo scoperto bitcoin è un accordo tra persone che hanno trovato un modo di creare scarsità se riproduciamo infinite varianti di bitcoin abbiamo cancellato la scarsità ma battere moneta è il mestiere più vecchio del mondo come si suol dire forse secondo ma sono spesso vicini e comunque è altrettanto invitante nel senso che è una tentazione irresistibile se io posso battere moneta divento padrone dell'economia e quindi è veramente difficile chiedere alle persone di non reinventare la scarsità digitale cosa impossibile ma anche la decentralizzazione di cui parlava Guybrush non può essere ricreata Satoshi Nakamoto crea un oggetto che si diffonde di bocca in bocca si diffonde in maniera organica mettendoci tanti anni da un nerd all'altro nerd e poi a un trader e poi a un commerciante e poi a una persona del terzo mondo e poi a Larry Flink e si diffonde organicamente chi crea la nuova versione di bitcoin non può competere con questa diffusione organica perché arriva tardi allora l'unico modo che ha è provare a drogare la diffusione con una fondazione centralizzata con una celebrity che lancia questa cosa con dei trucchi tecnici deve per poter competere falsare le carte e centralizzare spesso anche va contro la privacy perché Satoshi Nakamoto è uno sconosciuto che è scomparso invece il fondatore della nuova bitcoin deve essere la celebrità che si fa vedere il più possibile altrimenti non può competere velocissimamente siamo d'accordo non esistono altre criptovalute al di fuori di bitcoin assolutamente sì a parte degli utilizzi maliziosi in realtà la tendenza naturale di qualsiasi sistema di tendere all'efficienza di fatto inevitabilmente centralizzando alcuni processi anche nello stesso bitcoin c'è questa tendenza tendenza nella quale tutti quelli che si interessano e si appassionano a questa tecnologia contrastano con proposte innovazioni tecnologiche che vanno nella direzione opposta grazie mille Guybrush di essere stato ospite a Esploriamo Bitcoin e grazie mille anche a Giacomo Zucco grazie a voi noi ci diamo appuntamento a giovedì 14 novembre ora è 23.30 per parlare di mining di quello di cui abbiamo parlato in questa sede ma non tecnicamente di come funziona il mining di che cos'è il mining piuttosto di quali sono le conseguenze del mining positive o negative che possano essere il consumo energetico è necessariamente un male forse sì forse no lo capiremo di nuovo con gli esperti del settore per ora vi ringrazio di averci seguito e di nuovo l'appuntamento è giovedì a 14 novembre alle 23.30 grazie in collaborazione con incassi facilmente con bitcoin e ricevi euro sul tuo conto bentrovati amici di esploriamo bitcoin bentrovati a questo spin off della trasmissione vera e propria ci tenevamo ad entrare nel dettaglio di alcuni temi che sono stati trattati durante le puntate durante questa serie che è la prima in Italia a trattare di bitcoin in formato estensivo in forma di talk show e lo facciamo parlandone di nuovo con chi si occupa del settore e soprattutto chi ha anche in parte reso possibile la realizzazione di questa di questa serie in particolare lo facciamo con bitcoin people e oggi qui abbiamo Ela come ospite che ci parlerà un po' di bitcoin e un po' anche dei loro servizi grazie e benvenuto Ela grazie Federico è un piacere è un onore essere presente qui speriamo di dare chiarimenti a tutti su questo sul ruolo di bitcoin assolutamente bitcoin che nel nostro diciamo nel nostro mondo soprattutto in Italia in Europa negli Stati Uniti viene percepito sempre di più come oro digitale si parla spesso del ruolo di protezione dell'inflazione del ruolo di risparmio di bitcoin nel mondo del portafoglio dei risparmiatori e anche degli investitori come oro digitale si fa spesso questa questa metafora però in realtà bitcoin nasce anche come mezzo di pagamento lo stesso Satoshi Nakamoto nel white paper lo definiva una forma di cash di fatto digitale peer to peer e quindi ti chiedo è secondo te effettivamente efficace già oggi anche come mezzo di pagamento bitcoin? assolutamente la nostra risposta è sì categorico bitcoin è soprattutto un mezzo di pagamento o meglio dal nostro punto di vista il vero potere di bitcoin si esprime quando lo utilizziamo come mezzo di pagamento fermarsi alla capacità di bitcoin di fare da store of value quindi di riportarsi nel tempo è come dire limitante delle possibilità che ha per bitcoin ci sono altri asset alternativi a bitcoin che uno può prendere in considerazione ma le peculiarità come mezzo di pagamento di bitcoin sono veramente uniche per poter capire al meglio le potenzialità di bitcoin bisogna utilizzarlo tutti i giorni il più possibile vedere che si può custodire l'autonomia del denaro seppur digitale poterlo inviare in ogni punto del mondo o ricevere da ogni punto del mondo ci fa vivere l'esperienza reale di bitcoin e anche chi spesso ci prende in giro diceva perché dovrei pagare una pizza in bitcoin ecco fare l'esperienza e realizzare bitcoin pagando una pizza soddisfando proprio bene è il fine ultimo secondo noi certo quindi usarlo solo come mezzo di risparmio o di investimento è molto limitante certo tu dici bisogna di fatto utilizzarlo la tua azienda il vostro servizio di fatto in bitcoin people è quello di seguire aiutare le imprese e le attività ad accettare bitcoin anche come mezzo di pagamento e di seguirle in tutto il processo che questo richiede anche a livello burocratico legale eccetera quali sono però secondo te i vantaggi principali i motivi per cui un imprenditore un'azienda un commerciante dovrebbe iniziare ad accettare bitcoin ecco una volta come dire identificato il pagamento in bitcoin come qualcosa di disruptive molto potente per l'azienda noi cerchiamo di dare uno strumento per cui possano accettare questi pagamenti in bitcoin e però assolvere quegli obblighi tipici dell'azienda quindi la contabilità le riconciliazioni e abbiamo dei software che permettono appunto alle aziende di accettare il pagamento in bitcoin senza incorrere in difficoltà o complessità noi il servizio che offriamo si basa su tecnologia open source permettiamo a chiunque di accettare il pagamento in bitcoin se vuole lo può custodire mantenersi in bitcoin o eventualmente visto che siamo iscritti a NOAM possiamo convertire immediatamente il pagamento che l'azienda ha ricevuto quindi voi date anche la possibilità di accettare bitcoin e far convertire sul momento l'importo ricevuto in euro per chi è spaventato per esempio dalla volatilità del prezzo assolutamente abbiamo un esempio nei nostri clienti che lavorano come aziende import export quindi importano per esempio spezie dal medio oriente e ricevono incassi da 100.000 euro che vengono incassati in bitcoin immediatamente convertiti in euro e l'azienda riceve 100.000 euro tramite bonifico questo nostro servizio è possibile grazie alla tecnologia bitcoin alla tecnologia dei pagamenti bitcoin che trascende i confini permette al bitcoin di navigare o di viaggiare attraverso le giurisdizioni arriva in Italia viene convertito e si dice un bonifico euro i vantaggi in questo caso immagino siano in termini di commissioni per esempio i servizi di pagamento che altrimenti dovrebbero essere utilizzati nel caso dell'import export o di transazioni cross border il vantaggio è evidente quindi tagliare fuori tutti gli intermediari che a livello internazionale sono più di uno cioè sono due tre quattro banche prima che la mia controparte argentina riceva il pagamento quindi per un'azienda che fa transazioni transnazionali è evidente che il costo va realisticamente va a zero perché in cassa senza spendere nulla mentre sappiamo oggi che per concludere un incasso internazionale l'azienda deve anche rimetterci ci sono altri casi in cui i vantaggi sono meno evidenti diciamo lato e-commerce ci sono tanti metodi per incassare dal punto di vista elettronico però appunto bitcoin è l'unica tecnologia l'unico metodo che permette all'azienda all'e-commerce di incassare online senza lasciare una fetta agli intermediari in questo caso rispetto all'import-export ci sono meno intermediari però ci sono c'è Paypal c'è Klarna chiunque tu nomini si prende una fetta in via teorica utilizzando bitcoin anche l'e-commerce incassa senza spendere nulla come un tempo al supermercato pagando i contanti l'azienda il commerciante non spendeva nulla per incassare i contanti quindi vediamo materializzarsi il potere di bitcoin come cash digitale come certo quindi questo ragionamento vale anche per appunto attività al dettaglio il commerciante il ristorante la pizzeria l'edicola c'è un incentivo legato all'accettare pagamenti in bitcoin che è quello banalmente di evitare immagino le commissioni per esempio delle carte di credito esatto quindi si evitano gli intermediari e si evitano i costi legati agli intermediari è vero che soprattutto in Italia c'è una legislazione che obbliga le attività al dettaglio a mettere a disposizione il pagamento con carta no? tracciato però questo spesso ha dei costi molte aziende subiscono una compensazione di questi costi quindi magari non gli costa nulla ok? però hanno un carico burocratico non indifferente per gestire questi pagamenti elettronici ecco ribadisco bitcoin è l'unica forma di pagamento elettronico online o offline che non comporta dei costi direttamente sulla transazione certo al dettaglio aggiungerei c'è anche lì spesso il vantaggio ma qualora non ci fosse un vantaggio in termini di costo della gestione del transato c'è evidentemente un vantaggio in termini di esposizione e di targetizzazione di una certa nicchia che è in crescita non si può negare è una nicchia di appassionati criptovalute di bitcoin sono ancora pochi ma continuano a crescere costantemente quindi tu dici ci si apre a un mercato di appassionati che potrebbero scegliere la tua attività per il fatto che accetti bitcoin esattamente esattamente per il fatto che tu accetti bitcoin qualche bitcoiner quando viaggia per l'Italia potrebbe capitare metto bed and breakfast o nel tuo ristorante certo certo anche bitcoin è soggetto a delle regolamentazioni in Italia e in Europa molti commercianti potrebbero molti imprenditori potrebbero essere magari spaventati all'inizio dalla gestione burocratica come tengo la contabilità come pago le tasse come sto in regola voi aiutate anche da questo punto di vista sì per fortuna bitcoin non è regolamentato dubito che lo sarà mai no certo per il regolamento italiano però per la legge italiana se uno vuole restare in regola deve seguire certe normative esatto quindi gli operatori noi o le aziende sono regolamentati essendo in una giudizione quindi nel momento in cui un'azienda decide di accettare bitcoin come metodo di pagamento quello che deve fare è organizzarsi non è niente di complicato però organizzarsi per riconciliare questi pagamenti in bitcoin con la loro contabilità tradizionale il succo di quello che facciamo in Bitcoin è fornire all'azienda un software che collega la transazione in blockchain con un evento di business quindi una ricevuta una fattura ok collegando questo evento di business alla transazione sulla blockchain a te che l'abbiamo de-anonimizzata nel momento in cui c'è da riconciliare e da spiegare non c'è più conto corrente bancario a fare da terzo elemento di prova c'è la blockchain ok quindi in realtà aggiungiamo più fiducia nel sistema utilizzando e de-anonimizzando le transazioni aziendali sulla blockchain questo per dire che nel tempo noi in Bitcoin People abbiamo sviluppato una serie di best practice e di approcci alle diverse casistiche dell'azienda e sappiamo guidare con l'aiuto di commercialisti e avvocati l'azienda ad organizzarsi per gestire questo nuovo metodo di pagamento con l'utilizzo di Bpay appunto tutto diventa molto automatizzato è semplice Bpay appunto è il software che voi offrite per seguire i commercianti certo esatto e con questo software alla fine viene fuori un estratto conto Bitcoin come lo chiamiamo noi dove c'è il valore in Bitcoin e il valore in Euro della transazione e il tasso di cambio qui è avvenuto con la transazione con questi tre elementi qualunque commercialista è in grado di gestire la cosa è molto molto più semplice di quanto uno possa immaginare perfetto di da scalico c'è anche il problema diciamo il problema non è un problema però è sicuramente il tema lato custodia qualora un'attività decidesse di gestire autonomamente i propri Bitcoin senza invece convertire in Euro seguite anche il cliente nell'aiutarlo nel cercare qual è la soluzione di custodia migliore sì assolutamente noi cerchiamo non custodia first quindi cerchiamo di convincere i nostri commercianti che quella è la strada dettata da Bitcoin e quella è la strada da proseguire se decidono di fare la self custody gli diamo le accortezze minime quindi suggerimenti minimi per gestirli in sicurezza se poi è una struttura aziendale più complessa dove ci sono magari più soci più organi amministrativi consigliamo e settiamo dei wallet 2 di 3 o dei sistemi più complessi di sicurezza e in base poi alle esigenze al fatto che li vogliono investire nel lungo periodo poi gli puoi fornire un hardware wallet specifico quindi ci sono vari livelli di sicurezza in base all'esposizione dell'azienda in termini di Bitcoin certo perfetto grazie mille Ela preziosissimo il tuo contributo il vostro contributo consiglio appunto a tutti tutti gli imprenditori che fossero incuriositi da questa serie ma in generale soprattutto da Bitcoin a contattare Bitcoin People perché offrono un servizio veramente straordinario ci sono poi un sacco di tool uno per esempio è BTC Map che permettono di vedere quali attività in Italia già oggi accettano Bitcoin grazie Ela di essere stato qui con me ospite grazie Federico è stato un piacere alla prossima e un grazie a tutti voi telespettatori a presto grazie a tutti